La giovanissima campionessa cunese Anna Arnaudo qui oggi al 18esimo Memorial dedicato a Franco Florio alla pista di atletica di Alba. Un commento sulla prestazione che hai appena fatto nella tua gara di 1500 metri. Sono contentissima, soprattutto perché, come penso, molti altri atleti in questo periodo, sto passando un periodo un po' difficile. Insomma, quest'anno è stato particolare, è stato difficile per tutti e quindi non era facile scendere in campo oggi e soprattutto non era facile lottare contro gli avversari dopo tanto tempo. Quindi la gara di oggi, per come mi sono vista, per come ho combattuto, mi ha dato tantissima speranza e spero che tutti gli atleti in questo periodo possano ritrovare se stessi in gara. Com'è stato allenarsi durante il lockdown? È stato difficile soprattutto per la solitudine. Che si aggiudica questa seconda? Non potevo vedere il mio allenatore, non potevo vedere i miei compagni di allenamento e perché non potevo uscire. Quindi tutti gli allenamenti erano in casa. Quando si fanno già degli allenamenti magari un po' più pesanti, la solitudine pesa tantissimo. Però insomma, tornando indietro rifarei tutto quello che ho fatto durante il lockdown, tutti gli allenamenti, tutta la fatica, gli addominali, le flessioni, gli squat, la corda, tutte quelle cose. Perché comunque alla fine non ho mollato. Passiamo quindi tra poco alle tre sere dei 1500 metri uomini. Dopo la straordinaria prestazione di questa sera noi non possiamo fare altro che augurarti un buon proseguimento per tutto il resto dell'anno e per tutto il tuo futuro. Grazie Anna. Grazie mille.